Due giorni per celebrare l'uva, simbolo della terra salentina e del suo rinascimento enologico, il Negro Amaro. In scena a Guagnano, in provincia di Lecce, il premio terre del Negro Amaro, l'evento giunto all'undicesima edizione, che valorizza il vitigno autoctono all'interno di una delle aree più vocate alla sua produzione. Il premio terre del Negro Amaro è un importantissimo appuntamento immancabile nel territorio sersalentino perché fa sì che si celebra il vitigno principe, che è appunto il Negro Amaro, dove vengono premiati grandissime personalità del mondo del vino, si tengono bellissime masterclass di vini rossi, appunto rosati, anche di chi vinifica in bianco e nella vinificazione di spumanti. Quindi incoroniamo quella che è la realtà di un vitigno che vuole essere portato a livello regionale, nazionale ed internazionale e che sta dando lustro in tutto il mondo. Appassionati e addetti ai lavori hanno potuto degustare nella masterclass e ai banchi d'assaggio allestiti nel centro storico della cittadina salentina, le tante etichette di Negro Amaro messe a disposizione dagli aziende partecipanti unitamente ai piatti della gastronomia locale. Una grande festa dedicata al nobile vitigno conclusasi sulle note di Tony Esposito.